Migliarino. 26 settembre 2023 ha pugnalato due persone e poi scappa in auto. Today una caccia o l'uomo ha avuto luogo in tutta la provincia dopo la pugnalata che si è svolta. Poco dopo le 8 di questa mattina. A Migliorino. Secondo le prime informazioni, un uomo avrebbe visto l'ex partner in auto con un amico. Un alterco provocò che il sangue sarebbe scoppiato. L'uomo avrebbe ferito Alex e all'amico dell'amico e poi fuggì in auto verso Ferrara. 118 e i carabinieri si precipitarono sulla scena. I due feriti, entrambi italiani e conosciuti nel villaggio. Furono trasportati all'ospedale del Delta. Ma nessuno di loro sarebbe stato in pericolo di vita. Sono in corso tutte le indagini per delineare i contorni dell'incidente e tracciare le cause del disaccordo. Che sarebbero attribuite a motivi sentimentali.